Due noti senza fissa dimora che vivono pacificamente questa loro scelta ad Arezzo sono stati i protagonisti loro malgrado di un episodio di grande inciviltà avvenuto la scorsa notte. I due avevano lasciato coperte e maglioni in pratica tutto quanto il loro possesso vicino ad un parcheggio. Dopo la visita ad un centro di assistenza per la scena i due sono rientrati al parcheggio intorno alle 23 per trascorrere la notte ma i loro averi erano spariti, sconvolti e in lacrime si sono rivolti a tre volontari in turno alla croce bianca di Arezzo in via della società operaia. I volontari colpiti dalla storia e dal brutto gesto commesso ai danni dei due senza tetto hanno avviato una catena di solidarietà e in un'ora hanno regalato ai due uomini coperte e maglioni. Un bel gesto di sensibilità quello dei volontari che va onorato data la bassezza di chi ha derubato i due senza tetto dei loro scarni ma essenziali avere.